Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Element Gaming Sono ComandoWolf di Attic Gaming Group Allora, oggi siamo sul server Che è aperto praticamente Da pochissimo Della Element E Regà, primo giorno di polizia Spero vada tutto bene La Il mio superiore mi ha dato come Compito, diciamo, per il momento Di fare soltanto delle Pattuglie E aiutare, insomma, ogni bravo cittadino Che necessita del mio aiuto Io quindi adesso sono a cavala Che sto pattugliando così un po' a cazzo di cane Sperando di Di dare, insomma, una mano A chi necessita Allora, vi dico subito, in descrizione Prima di cominciare il video, cioè di cominciare A pattugliare Vi dico subito che in descrizione troverete Tutte le informazioni per il server Il gruppo Steam E anche, beh, il link al mio canale YouTube Mi raccomando, date uno sguardo a tutto E venite a giocare in questo server Perché bisogna popolarlo Bisogna giocare tutti insieme Noi siamo una quindicina A venti all'incirca adesso Che militano nel server Ogni giorno Ma si spera di portare il tutto A numeri un po' più grandi Anche perché il server è partito Praticamente da due giorni Allora Io so Non so neanche che cazzo sto a fare Perché stavo a parlare praticamente Ma non mi rendevo conto Di quello che stavo a fare Io adesso metto a fare qualche posto di blocco Vediamo se passa qualcuno Qui da ste parti Fermi, fermi, fermi Fermi e male dietro la schiena per favore Cioè voi non ci potete Voi non ci potete Sta qui Oh Che cazzo è che mi ha fregato Vieni qua Porco dico Vai 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 Oh Oh raga Ah raga È successo un casino Mi hanno fregato il furgone Qualcuno qui in piazza Qualcuno qui in piazza per favore In piazza a cavola raga Arrivo con l'elicottero Sì 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 tu puoi andare Tu puoi andare Ti preoccupa Fermo eh Non ti muove Non ti muove per favore Porca troia Porca troia Sì è ricevuto Sta arrivando Guarda se riesci a vedere Quello che mi ha fregato il furgone Intanto io tiro giù questo Ando cazzo sta questo Provo un po' Arianna verso Verso cavola Vedo se riesco A vedere Poi no Cazzo sta fuggire con la macchina mia Non si dovrebbe vedere Tu lo vedi Eccolo 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 L'ho visto L'ho visto L'ho visto L'ho visto Sulla destra Verso Destra verso la strada Se stai in meta Adesso nella strada Sei fermato Metto un comunicazione diretta No ma non mi sente E accossa Oppure primo Accosso Apriamo il fuoco Questo cazzo sta Me lo so perso Eccolo Accossa Niente Ni culo Niente Seguilo un po' Vediamo Tanto c'è la Il furgone Non c'era tanta benzina Quindi in teoria Va lontano Lo vedo Lo vedo Guardi la strada Che cazzo sta a fa' E' sceso E' sceso E' sceso E' sceso L'ho preso L'ho preso Oh Me l'ho arrestato Ok Allora Ricerca Giocatore Oggetti di gai Nessun oggetto illegale Ok Scorta giocatore Vai Adesso tu finisci Dritto dritto In galera E poi Ecco il balordo De Ricky Maledetto Lo odio Jay J ma l'ha visto Chi era Era Ricky Ok Vai Aspetta perché Così non me la fa fa Lo sta più vicino Eccolo Perché non me la fa mettere dentro Perché Perché non me la fa Non me la fa mettere dentro il veicolo Vai E' stragiocatore No Si è buggato Ok Ok Ah Non posso correre Perché Sono Sono mezzo munco Il balordo Ma pure sparano Sì lo portiamo dentro Per una decina Quanto 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 Stai Una decina De minuti Almeno La prossima Volta Impara E' Chiudi il tuo mezzo Però eh Eh ma Cioè Non ci ho fatto caso Perché sono sceso Per Cioè Per controllare Allora Al volo Perché se ne stavano Andà Sono sceso Al volo A lui proprio Non l'ho visto Non l'ho visto Raga ho fatto una figura De merda Impressionante Ah beh Sì sì Il mio è ancora Lì aperto Doppia figura De merda Raga Non ci ho fatto caso Raga scusate Poco Che sto in polizia Ok vai Lascialo qui Tanto poi Lo ripio dopo Anzi no Aspetta Me lo mando direttamente via Ok Insomma Insomma Non sento che sa di Io ti sento bassissimo Che gli ha detto No Non lo sento più Comunque ragazzuoli Io direi Primo giorno Da poliziotto Un completo disastro Praticamente Ho rischiato di crepare Ma Mi hanno fregato Mi hanno fregato La La jeep E per fortuna C'era Jay Che c'era con l'elicottero Perché se no Adesso si schiantamo Jay con l'elicottero Perché se no Era un disastro Comunque ragazzuoli Vi lascio Il link del server In descrizione È il server Della element Che ha aperto Adesso Infatti Jay è Il capo Della polizia E nonché Il Un membro Degli element E L'admin Del server Degli element 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 Grazie.